Con sguardo velato di lacrime, Romina Carrisi ha recentemente condiviso una notizia commovente riguardante il suo neonato, soltanto pochi giorni dopo la sua nascita, nell'ultimo episodio di Viva Rai 2. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Rosario Fiorello ha scherzato sulla scelta del nome del figlio neonato della giovane erede di Albano e Romina Power, Axel Lupo. Fiorello ha ironicamente commentato, è nato il nipote di Albano, l'hanno chiamato Axel Lupo, ma perché sono sempre i figli dei famosi? Ma puoi chiamare un bambino Axel Lupo? Immagina se incontra Nathan Falco o Falco Lupo, mai che uno chiami suo figlio Blatta. Ti immagini una figlia femmina di nome Blatta? Blatta, Blatta, vieni qui. Le parole di Fiorello hanno suscitato una risposta immediata da parte di Romina Carrisi, madre del neonato, la quale ha definito l'osservazione del comico come puro bullismo. Ha dichiarato, prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Sì, certo, Fiorello si fa per ridere, ma questo è puro bullismo, non umorismo. Forse da piccoli hanno preso in giro te e Caterina, la sorella di Rosario, per i vostri nomi, e questo da neo madre mi dispiace. Baci e buon Sanremo. Mio figlio Axel Lupo sta benissimo. Il 24 gennaio a Roma è nato Axel Lupo, frutto dell'amore tra Romina e il suo compagno Stefano Rastelli. Cosa ne pensate di questo scambio di opinioni? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lasciate un mi piace al video. Grazie per il supporto.